Con questo tutorial parliamo del raccoglimento attraverso il quadrato di binomio. Allora, le formule che dobbiamo utilizzare sono queste due. Quando io ho una scrittura del tipo a alla seconda più 2b più b alla seconda, beh, questo è un quadrato di binomio che vado a scrivere proprio come a più b al quadrato, in maniera del tutto analoga, quando il doppio prodotto ha il segno meno, a alla seconda meno 2b più b alla seconda, lo vado a scrivere come a meno b alla seconda. Vediamo subito un esempio. Se io scrivo x alla seconda più 2x più 1 e voglio raccogliere, allora mi rendo conto che x quadro in questo caso è come se fosse a quadro e 1, pensato come 1 alla seconda, è proprio b quadro. 2x è il doppio prodotto e allora posso andare a scrivere come x più 1 alla seconda. Per fare la verifica basta risviluppare il quadrato di binomio. Infatti x alla seconda fa x alla seconda, 1 alla seconda fa 1 e x per 1 per 2 è proprio il doppio prodotto. In maniera del tutto analoga potrei scrivere x alla seconda meno 2x più 1. In questo caso vado a scrivere x meno 1 alla seconda. Perché qui devo scrivere meno? Perché il doppio prodotto è negativo e quindi sto guardando questa formula. Vediamo un altro esempio. y alla seconda meno 10y più 25. Allora, i due quadrati sono y alla seconda e 25 e allora posso andare a scrivere y meno 5 alla seconda. Devo mettere qui il meno in quanto il doppio prodotto risulta negativo. Sempre. Per capire se ho fatto bene basta fare la verifica. y alla seconda è y alla seconda, 5 alla seconda è 25 e questo è il doppio prodotto di y per 5. Vediamo un altro esempio. x alla seconda meno 2ax più a alla seconda. Allora, i due quadrati sono x alla seconda ed a alla seconda, meno 2ax è il doppio prodotto. Siccome che è negativo dovrò utilizzare questo tipo di formula. E allora vado a scrivere x meno a alla seconda. Scrivo ora 4x alla seconda più 4xy più y alla seconda. Allora, qui il primo quadrato è 4x quadro che deriva proprio da 2x. L'altro quadrato è y quadro e allora vado a scrivere 2x più y alla seconda. Infatti, 2x alla seconda fa 4x quadro, 2 alla seconda fa 4, x alla seconda fa x alla seconda. y alla seconda è y quadro e poi 2x per y è 2xy moltiplicato per 2 mi dà proprio il doppio prodotto. Allora, vediamo un altro esempio. 9x alla seconda meno 24xy più 16y alla seconda. Allora, i due quadrati sono 9x quadro e 16y quadro. 9x quadro deriva da 3x che elevo alla seconda. 16y quadro deriva da 4y. Siccome che qui c'è il segno meno, allora dovrò andare a scrivere 3x meno 4y alla seconda. Infatti, 3x alla seconda fa proprio 9x quadro. Meno 4y alla seconda, quindi meno per meno fa più, 16y quadro. E questo è il doppio prodotto, 3x per 4 è 12, per 2 fa 24, x, y. Vado a scrivere ora 4a alla seconda più 4a più 1. Allora, i due quadrati saranno sempre questo e questo. 4a alla seconda deriva da 2a e allora vado a scrivere 2a più 1 alla seconda. Scrivo ora 16 più 9x quadro meno 24x. Allora, devo riconoscere quali sono i due quadrati. Il primo quadrato è 16, deriva da 4 alla seconda. Il secondo quadrato è 9x quadro, quindi che deriva da 3x. Siccome che il doppio prodotto qui c'è un meno, allora devo utilizzare questa formula. E allora vado a scrivere 4 meno 3x alla seconda. Come abbiamo fatto finora, basta rifare lo sviluppo del quadrato di binomio per verificare se abbiamo fatto bene. Vediamone un altro. 9x alla seconda meno 30x più 25. Allora, i due quadrati sono questo e questo. Questo deriva da 3x, questo deriva da 5. Siccome che il doppio prodotto è negativo, allora devo andare a scrivere 3x meno 5 alla seconda. Vediamone un altro. 4x alla seconda più 9y alla seconda più 6xy. Allora, i due quadrati sono questo e questo. E allora posso andare a scrivere x più 3y alla seconda. Scrivo 3y alla seconda perché qui ho 9y quadro. Vediamo altri esempi. Meno 12x più x alla seconda più 36. Allora, i due quadrati sono x alla seconda e 36. Il doppio prodotto è negativo, allora devo utilizzare la formula con il meno. E quindi scrivo x meno 6 alla seconda. Infatti, x alla seconda fa x alla seconda, meno 6 al quadrato è più 36 e meno 12x lo ottengo come x per meno 6 per 2. Vediamone un altro. A alla seconda, b alla seconda, meno 6ab più 9. Allora, il primo quadrato è a alla seconda, b alla seconda. Il secondo quadrato è 9. Il doppio prodotto è negativo e allora vado a scrivere ab meno 3 alla seconda. Vediamo quest'altro esempio. Meno 42ab più 9a alla seconda più 49b alla seconda. Allora, i due quadrati sono questo e questo. Qui il doppio prodotto è negativo e allora vado a scrivere 3a meno 7b alla seconda. Infatti, 3a alla seconda fa 9a alla seconda, meno 7b alla seconda fa proprio più 49b. E questo, che è il doppio prodotto, è negativo lo ottengo come 3a per meno 7b. per 2. Vediamone un altro. Meno 6ab più 9a alla seconda, b alla seconda, più 1. Allora, qui vado a scrivere subito 3ab meno 1 alla seconda. Infatti, 3ab alla seconda fa 9a alla seconda, b alla seconda. Meno 1 alla seconda fa 1 e questo è il doppio prodotto. Quindi, 3 per meno 1 è meno 3 per 2, meno 6, ab. Vediamo quest'altro esempio. x alla quarta meno 2ax alla seconda più a alla seconda. Allora, qui i due quadrati sono questo e questo. A alla seconda deriva da a. x alla quarta invece deriverà da x alla seconda, cioè x alla seconda elevato alla seconda da x alla quarta. Poi c'è il meno, quindi il doppio prodotto è negativo. E allora vado a scrivere x alla seconda meno a alla seconda. Vediamone un altro simile, b alla quarta più 1 più 2b alla seconda. Allora, i due quadrati sono b alla quarta ed 1. b alla quarta deriva da b alla seconda, mentre 1 lo posso pensare scritto come 1 alla seconda. E allora vado a scrivere b alla seconda più 1 alla seconda. Vediamo qualche altro esempio. x alla ottava meno 4x alla quarta più 4. Allora, i due quadrati sono x all'ottava e 4. x all'ottava deriva da x alla quarta. Infatti x alla quarta alla seconda fa proprio x all'ottava. 4 invece deriva da 2. Il doppio prodotto è negativo e allora vado a scrivere x alla quarta meno 2 alla seconda. Vediamo quest'altro. a alla seconda, b alla quarta, c alla seconda, più 1, più 2ab alla seconda, c. Allora, i due quadrati sono questo e questo. Uno perché ormai dovremmo averlo capito che lo posso pensare scritto come 1 alla seconda. Quest'altro è il quadrato di a, b alla seconda, c. E allora vado a scrivere come risultato a, b alla seconda, c, più 1, tutto quanto alla seconda. Infatti a alla seconda fa proprio a alla seconda, b alla seconda alla seconda è b alla quarta, c alla seconda, ottengo c alla seconda. 2ab alla seconda c invece è proprio il loro doppio prodotto. Scrivo ora x alla sesta meno 4x alla terza più 4. Allora, i due quadrati sono questo e questo. x alla sesta lo penso che deriva da x alla terza. Infatti x alla terza alla seconda fa proprio x alla sesta. 4 invece deriva da 2. Il doppio prodotto è negativo e allora vado a scrivere x alla terza meno 2 alla seconda. Posso fare la verifica. x alla terza alla seconda, quindi 3 per 2, fa 6, meno 2 alla seconda, fa 4, x alla terza per meno 2, quindi fa meno 2x alla terza, per 2 meno 4x alla terza. Vediamo un altro esempio. x alla sesta più 4y alla seconda più 4x alla terza y. Allora, i due quadrati sono x alla sesta e 4y alla seconda. x alla sesta deriva da x alla terza, mentre 4y alla seconda deriva da 2y. Allora, il quadrato è x alla terza più 2y tutto quanto alla seconda. Allora, vediamo altri esempi. Allora, 4x alla dodicesima più 9 meno 12x alla sesta. Allora, i due quadrati sono 4x alla 12 e 9. 4x alla 12 deriva da 2x alla sesta. 9 deriva da 3. E allora, vado a scrivere 2x alla sesta meno 3 alla seconda. Ho dovuto scrivere meno 3 perché il doppio prodotto risulta negativo. Vediamone un altro. x alla decima più 2x alla quinta più 1. Allora, i due quadrati sono x alla decima ed 1. x alla decima deriva da x alla quinta. E allora, vado a scrivere x alla quinta più 1 alla seconda. Vediamo altri esempi. Quindi, x alla ottava più 24x alla quarta più 144. Allora, i due quadrati sono x alla ottava e 144. x alla ottava deriva da x alla quarta. Il trucchetto è proprio prendere questo 8 e dividerlo per 2. 144 invece deriva da 12. 12 alla seconda. Il doppio prodotto è positivo e allora il risultato sarà x alla quarta più 12 alla seconda. Scrivo ora 25a alla quarta b alla seconda meno 10a alla seconda b c alla seconda più c alla quarta. Allora, i due quadrati sono questo e questo. 25a alla quarta b alla seconda deriva da 5a alla seconda b c alla quarta deriva da c alla seconda e allora il quadrato di binomio sarà 5a alla seconda b meno c alla seconda tutto quanto alla seconda. Ho dovuto mettere qui il meno perché il doppio prodotto mi risulta negativo. Vediamo qualche caso particolare del raccoglimento con il quadrato di binomio. Allora, scrivo x più 1 alla seconda meno 2x più 1y più y alla seconda. Allora, anche questo polinomio può essere scomposto con un quadrato di binomio. Come si fa? Allora, y alla seconda, vabbè, questo deriva da y. Ora devo determinare l'altro quadrato. L'altro quadrato è proprio il blocco x più 1 alla seconda e deriva da x più 1. Allora, il quadrato di binomio che si ottiene, metto delle quadre, è x più 1 meno y tutto quanto alla seconda. Infatti, x più 1 alla seconda è x più 1 alla seconda, meno y alla seconda è y alla seconda e questa quantità è proprio il doppio prodotto di x più 1 per y. Ne faccio un altro in maniera del tutto analoga. x più y alla seconda più 2x più y per z più z alla seconda. Allora, i due quadrati saranno z alla seconda e x più y alla seconda. E allora vado a scrivere che x più y alla seconda deriva da il blocco x più y, z alla seconda deriva da z e allora il mio quadrato di binomio lo posso scrivere come x più y più z tutto quanto alla seconda. Infatti, x più y alla seconda mi dà proprio x più y alla seconda. z alla seconda è z alla seconda, questa quantità 2x più y per z l'ottengo proprio con il doppio prodotto di x più y per z. Vediamo quest'altro esercizio. Allora, anche questo polinomio può essere scomposto con un quadrato di binomio dove x più 5 alla seconda è il primo quadrato e y meno 1 alla seconda è il secondo quadrato e questo lo posso interpretare proprio come il doppio prodotto di x più 5 per y meno 1. E allora vado a scrivere x più 5 più y meno 1 alla seconda. Vediamo quest'altro esercizio. Ci sono i numeri fratti, non cambia assolutamente nulla. Quel che conta è riconoscere i due quadrati. Allora, il primo quadrato è proprio questo, 9 quarti x alla seconda, che deriva da 3 mezzi x. L'altro quadrato è 1 nono alla seconda, che deriva da 1 terzo a. Il doppio prodotto è negativo e allora il risultato sarà 3 mezzi x meno 1 terzo a, tutto quanto alla seconda. Vediamo quest'ultimo esercizio. Allora, i due quadrati saranno 4 noni a alla sesta e 1 quarto b alla seconda. 4 noni a alla sesta deriva da 2 terzi a alla terza, mentre 1 quarto b alla seconda deriva da 1 mezzo b. Il doppio prodotto è negativo e allora vado a scrivere 2 terzi a alla terza meno 1 mezzo b, tutto quanto alla seconda. E con quest'ultimo esercizio termino questo tutorial sulla scomposizione in fattori attraverso il quadrato di binomio. Grazie. 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 Grazie.